Fino a martedì staccate tutto. Basta attacchi a Conte. Basta polemiche. Basta social. Rilassatevi che le cose vanno per il verso giusto. Tanto le prossime mosse spettano a loro. Non a noi. Matteo Renzi è fiducioso in vista del voto al Senato sulla relazione annuale di Alfonso Bonafede. Venerdì. Al termine di un summit via Zoom si sono create due correnti di pensiero. Da una parte chi come Eugenio Comincini, che ha già preannunciato che non seguirà i via l'opposizione, ha provato a lanciare un appello. Facciamo noi un passo vero nella direzione del dialogo con la maggioranza. Non abbiamo altra scelta. Dall'altra. Roberto Giacchetti. Io volevo votare contro la fiducia al governo mercoledì e abbiamo scelto la stensione. A guardare c'è il resto del partito che, secondo il Corriere della Sera, segue ancora il leader. Secondo Renzi se Conte porta Bonafede al voto del Senato o prende una maggioranza risicata o cade. Ma per l'ex premier Conte potrebbe anche evitare il voto su Bonafede dimettendosi martedì o mercoledì al Quirinale chiedendo un reincarico. Che a quel punto alle consultazioni rimetterebbe in gioco tutti. Italia viva compresa. Scrive sempre il quotidiano di Via Solferino. Avete capito perché dovete stare in silenzio fino a martedì? Ha così ordinato ai suoi Matteo Renzi. Grazie a tutti.